A casa dopo mi era venuto in mente che secondo me con un mixer, perlomeno con quello che hai te, che è un po' più potente del nostro, forse riusciamo a salvare capra e cavoli e mandarti innanzitutto levarsi in stereo in cuffia e magari... Guardi! Guardi anche cavoli! Sai cavolo! Vabbè, volevo punire te ma penso che lo punirò a fare! Nooo! No, scusate, che cazzo dici? Vieni qua! Ti ingloro, ti mangerò! C'ho un freddo e scendi poi perché diventerai parte del mio laudo! Stai resistendo! E te cazzo dici? Penso che devi venire ad entrare a casa! Si, ma no, a te hai messo quell'altra istruzione del tuo giorno? E' bruttissima, già è tipo una faccia da una pato e da un lato... E' solo perché tu fai una figlia, non l'incompa niente! Ma vedete che non sente un cazzo, esatto! 1, 2, 3, 4! Sopra il cielo è grigio tutto ma non pionerà perché anche lui non ha più la prime! Sopra il cielo è grigio tutto ma non pionerà! Sopra il cielo è grigio tutto ma non pionerà! Sopra il cielo è grigio tutto ma non pionerà! Sopra il cielo è grigio tutto ma non pionerà! Sopra il cielo è grigio tutto ma non pionerà! 2, 3, 4! Se volgo sc Una è già iniziata, poi un'altra appena uscita, e alla porta non c'è più. Queste bombe chiano mai, chi le lancia non lo sai, ma morire siamo noi. Queste dorme ho qui ma non ca, sono petit pienso, ma non c'è più oltre al chiar bambina, io devo healthier, fa via chiamare ma non c'è più. Paola rai so избro questo messo dizer后 te la funky adacki pensa attendo. Dello interno loro, e le lancia non lo sai, ma morire siamo noi. E se non per caso mai, mi rilascia non lo sai, ma vorrei che siamo noi. E se non per caso mai, mi rilascia non lo sai, ma vorrei che siamo noi. E se non per caso mai, mi rilascia non lo sai. E se non per caso mai, mi rilascia non lo sai. E se non per caso mai, mi rilascia non lo sai. E se non per caso mai. E se non per caso mai.